Gentili telespettatori, buona giornata. Ellie Schlein e quelli che tutto chiamano oggi il tortellino magico. Nel PD cominciano a innervosirsi per l'intervista a Vogue e il tortellino magico. Eh sì, perché? Nel PD non ci si annoia proprio. Ecco, dopo Enrico Letta che era monoioso, anonimo, oggi c'è la segretaria compagna che trafazzoletti rossi, quella che lei paga per andare a comprare i vestiti con lei. Eh beh, insomma, è un bel personaggio. Non potete dirmi che non è un personaggio, è un personaggio Ellie Schlein. Ecco, però si borbotta intorno a lei che le persone che sono nella testa del treno, cioè il treno del PD c'è il locomotore, la motrice, eh? La motrice. Non vi ricordo i trenini elettrici? La motrice. Ecco, la Schlein è dentro la motrice, quella che guida il PD, ma lì con lei c'è la dirigenza. Ma questa dirigenza, dicono i si borbotta, non si può entrare nella motrice, perché nessuno ti invita, soprattutto perché se non sei emiliano, non il governatore, ma se non sei dell'Emilia Romagna, non hai possibilità alcuna di entrare in quello che ormai in tanti chiamano il tortellino magico. Professore, ma che te ridi? E rido, lasciatemi ridere, no? Lasciatemi passare una giornata allegra, eh? Permettetemi di ridere. Bene. E così arriva l'intervista a Vogue, della segretaria compagna che dice quando sono stressata gioco alla Playstation. E i dirigenti del PD, quelli di una volta, sono rimasti, cioè Playstation, videogiochi, come i ragazzini. Ciù, 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 ciù. Eh beh, insomma, poi io personalmente non ho mai, raramente ho giocato ai videogiochi, raramente. è una cosa proprio che è una cosa proprio che non preferisco far niente piuttosto che giocare a un videogioco. Non passo io il tempo giocando ai videogiochi. Diciamo che ogni tanto mi concedo un po' di televisione, ma ho un sacco di cose da fare, un sacco di cose. Solo il canale mi occupa 6-7 ore al giorno, 7 giorni su 7. Io lavoro 7 giorni su 7, 7 ore al giorno. 7 per 7, 49. 49 ore è il mio impegno lavorativo col canale. Ma torniamo a Vogue. Ecco, rilasciata il 25 aprile per la festa della liberazione. E Renzi dice non ho proprio parole, forse sono sbagliato io, dice Renzi. Qualcuno dice ecco perché non ha detto niente alla manifestazione, aveva l'esclusiva. E poi, fino al ritorno delle paure leopoldiane, quelle cioè di un partito scalabile con l'arma a doppio taglio delle primarie. quello della Schlein sembrava un aumento di capitale, invece era un OPA ostile. Io rimango convinto, mia convinzione personale, che la Schlein l'abbiano fatta vincere, magari con voti multipli. Sapete che c'è un eurodeputato della Lega che ha provato e nella sua città è riuscito a votare in tutti i gazebo che c'erano del PD. ha votato cinque volte, cinque volte, è andato in una o in un'altra, ha votato cinque volte. Quindi è molto semplice se tu vuoi far vincere la Schlein ti ti metti d'accordo con le persone. Ma questa è una mia supposizione, attenzione, non è un'accusa, è una mia supposizione. Secondo me si sono messi d'accordo, andate a votare la Schlein, votatela, rivotatela, tutte le volte che potete in tutti i gazebo e il risultato si è capovolto. Doveva vincere Bonaccini con una bella distanza, ha vinto la Schlein. Ecco, la mia opinione è che hanno fatto vincere la Schlein per non far vincere Bonaccini, per non far tornare il rottamatore Renzi. Bene. E così, nelle chat del PD non hanno gradito quest'intervista. Come la segretaria compagna di sinistra, tipo centro sociale, che poi racconta che ha la personal shopper da 400 euro all'ora e che fa l'intervista su un prestigioso giornale, non certo operaio, quindi i mugugni ci sono e come. Dicono anche, prendono la palla al balzo di questa intervista e dicono fa tutto da sola, di noi non ascolta nessuno. E l'altro dice, lo dico sempre, io da sola non basto. almeno, la Schlein diceva, almeno così, io da sola non basto, non credo nell'uomo o donna sola al comando, se ho scelto di candidarmi alla guida del PD è perché mi sembra l'unico partito non personale in Italia e questa è la sua grande forza. Però, poi, in realtà, decide tutto da sola, non vuol sentire nessun parere, se non di quelli che stanno nella motrice, quelli che, se non sei Emiliano, non entri nella motrice, ma lo dicono nel PD, non è che lo dicono le male lingue fuori, lo dicono nel partito democratico, ecco. E così, vediamo un carattere tipico anche di quelli che sono agli estremi. Di solito, estrema destra, estrema sonistra sono caratterizzate dall'intolleranza. Io ho ragione, basta, tu cosa vuoi? Io non parlo neanche con te perché ho ragione io. non ho bisogno di nessuno per decidere. Di solito questi sono atteggiamenti che sono la caratteristica di chi sta agli estremi. Di solito l'estremista è anche estremista nel dire io ho ragione e non ascolto quello che mi dici perché tu non puoi aver ragione. E così, chi è agli estremi di solito è intollerante, poi di solito le persone crescono con l'età e dagli estremi convergono verso diventano di centro-sinistra diventano di centro magari in gioventù uno sta negli estremi estrema destra estrema sinistra poi si capisce tante cose e si converge verso il centro ma la segretaria compagna del PD forse è rimasta ancora agli estremi e agli estremi non si è molto quando si sta agli estremi di destra o di sinistra non si è molto democratici cioè non si ha un approccio molto democratico nel senso come vi dicevo prima alla fine tu cosa vuoi? Vuoi consigliare a me? Guarda che io lo so quello che dico non ti preoccupare che non ho bisogno di consigli non mi dite niente perché so io quello che c'è da fare di solito questo è il comportamento di chi è agli estremi grazie a tutti e arrivederci a presto a presto